Per la ristrutturazione puoi accedere allo sconto in fattura del 50% sia supporte, infissi e su tutta la gamma di prodotti da noi utilizzati e per le finestre anche senza ristrutturazione. Nusco, ispirati dalla tradizione, progettati al futuro. L'amministrazione comunale riveda la sua decisione di aumentare le tariffe degli impianti sportivi poiché non sono congrui per i servizi offerti dalle strutture utilizzate dalle varie associazioni e questo è un'estrema sintesi quanto chiedono le associazioni cavesi unite. Il movimento capeggiato da Emilio Maddalo, il quale ieri sera nel corso di una diretta social ha comunicato il rinvio della manifestazione che era stata in un primo momento organizzata per domani, sabato 15 gennaio. Purtroppo molti sanno che da mesi tutto questo sta diventando difficile soprattutto perché le tariffe che il Comune ha deciso di applicare sono diventate troppo onerose per quanto riguarda le nostre strutture, soprattutto perché quasi tutte le associazioni sono delle associazioni che fanno questo per passione, non certo per lucro. Di conseguenza molte di queste associazioni da qualche mese non riescono a espletare la loro attività, stanno perdendo molti ragazzi, il momento è difficile. Questa manifestazione innanzitutto è solo rinviata, ci tengo a dirlo perché noi abbiamo la ferma intenzione di far conoscere a tutta la cittadinanza cavese quella che è una problematica che inizialmente può sembrare anche futile ma che invece valuta soprattutto dal punto di vista psicofisico quello che è lo stato dei nostri ragazzi perché sappiamo da due anni che cosa stanno patendo, sappiamo da che cosa stanno venendo fuori, per cui fermarli e bloccarli e toglierli per meri motivi economici, l'unica, diciamo così, chiamiamola valvola di sfogo, l'unico momento in cui hanno un'aggregazione sana, ecco noi non possiamo accettarlo, noi come associazioni e noi come, diciamo così, anche fruitori di quelli che sono le strutture sportive. Questa manifestazione noi abbiamo deciso di rimandarla perché riteniamo che comunque, visto e considerato tutti i sacrifici che sta facendo non solo la cittadinanza cavese ma l'Italia intera per rimanere coerenti in quello che è il momento di caos che c'è in virtù dei contagi, non ci sembrava né coerente né intelligente perseverare in questo errore, quindi magari portare per strada 200-300 persone che sarebbero state giocoforza, diciamo in una sorta di assembramento forzato, per cui abbiamo deciso di rinviarla. Il corteo verrà svolto nelle prossime settimane, quando sarà stato superato il probabile periodo di picco dei contagi, ma le associazioni comunque in questi giorni si attendono risposte concrete da Palazzo di Città. Ecco noi non possiamo permettere che tutto questo finisca perché l'amministrazione non riesce a gestire in maniera oculata e in maniera soprattutto organica quelle che sono le strutture sportive accumulando una serie di problemi che poi dopo risultano quelle che sono tutte le difficoltà che ricadono sulle associazioni. Partiamo dal presupposto che il monte spese, il monte costi delle strutture sportive non può essere attribuito in maniera uniforme a tutti e divisi in parti uguali. Noi fermamente da questo punto di vista ci aspettiamo ancora una risposta da parte dell'amministrazione locale. i costi delle palestre non possono essere, non devono essere più di 54 euro l'ora ma che tornino ad essere quelli che sono sempre stati i costi congrui primo per il tipo di strutture che abbiamo ma soprattutto per il fatto che queste strutture non hanno questa manutenzione o hanno bisogno di questa cura tale da giustificare dei costi così eccessivi.